Vorrei chiedere a professor Malvezzi come si potrebbe tecnicamente uscire fuori dall'euro limitando i contraccolpi socio-economico sul paese Italia. Chi potrebbe essere oggi il novello Nigel Farage italiano? Questo ascoltatore ha voluto rallegrarmi la serata che stavo andando un po' giù di morale. E' bellissimo, pensare che ci siano ancora persone con questo animo puro mi rallegra, mi rallegra tanto. Allora guardate, ci sono tre scenari per l'Italia, questi tre scenari sono stati disegnati tra l'altro da un sito molto autorevole che si chiama Bloomberg. L'Italia è il vero problema dell'eurozona, i tre scenari sono sostanzialmente questi. Il primo, quello che propongo io, si chiama giubileo del debito. Lei sa come veniva fatto il giubileo, il giubileo è una questione religiosa, vuol dire sostanzialmente chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto, scordammo ci ho passato, eccetera eccetera. Cosa vuol dire questo? Che il debito italiano lo pagherebbero in quel caso quelli che hanno guadagnato di più, si chiama sistema bancario. Dato che il debito bancario è nelle mani di banche e assicurazioni sarebbero questi i pagatori. Mi seguite? Sto parlando in termini credo molto semplici. Vuol dire avete mangiato per 40 anni, adesso la gente sta morendo per la strada, cortesemente diamo da mangiare alle persone per la strada. Secondo scenario. Il secondo scenario si chiama ristrutturazione del debito attraverso sostanzialmente la Italexit o quella che io chiamo Malvexit. Cioè usciamo da questa gabbia di matti che si chiama Europa. Disgraziatamente nessun partito politico italiano lo vuole fare, anche perché il costo, chi lo pagherebbe in questo secondo caso? Io sto facendo un ragionamento razionale, ok? Soluzione, chi paga per quella soluzione? Soluzione 1, pagano banche e assicurazioni private. Soluzione 2, pagherebbero le banche centrali che sono prevalentemente legate alla Banca d'Italia. In questo caso il primo pagatore sarebbe, sa chi, la Bundesbank. Soluzione numero 3. La soluzione numero 3 si chiama MES, Meccanismo Europeo di Stabilità. Vuol dire noi mettiamo un'agenzia in mezzo che fa un'alchimia finanziaria, una parte del debito lo facciamo passare da lì, facciamo rientrare l'Italia all'interno dei parametri. In questo modo tutti faranno finta che tutto vada bene, anestetizziamo il problema italiano e continuiamo a creare interessi speculativi. Ma secondo voi, quando noi abbiamo avuto a dicembre il 5% di inflazione, quando i tedeschi che sono i creditori stanno in questo punto non avendo più interesse reale, quando nel nostro paese arriverà non l'inflazione ma la stagflazione, di cui non parla nessuno, che vuol dire mettere insieme l'inflazione e la stagnazione economica, in quella situazione lì sceglieranno la busta numero 1, la 2 o la 3? Ve lo dico io, certamente la busta numero 3. Quindi parlare oggi di uscita dell'Italia dall'euro può essere bello dal punto di vista ideologico, non c'è nessuno che politicamente ha la forza di poterlo fare.